... La cosa che mi nascita sempre molto è che la maggiore confusione la convoca a fare consigliere del frattempo, un grande. La cosa che mi nascita sempre tanto è che a di là di questa attenzione storica del sindaco, del Presidente, il Consiglierezza si mette anche a, come dire, sollecitare la situazione del sindaco, del Presidente. Mentre il Consigliere si interessa. Ma questo, come dire, il Capo Giannustra è fatto. Cioè, la verità è che il problema è che quando si fanno le impiegazioni sui giornali, se va, e tenete bene il Consiglierezza, il Consigliere Vallo, per non per conto anche dei consiglieri del Partito Democratico, inizierà a subito di leggere queste ultime considerazioni come si è un cammino bene. Basta che si assumiva la pagina dei dati che non gli ho detto, avendo scusso questo, delle proposte parte di confusione. E questo, ovviamente, ha determinato un effetto devastante. Cioè, che il Presidente, come dice questo, il Senato di questa direzione, oddio viene, e dice che non è più da conto a quello che era stato discusso questo. Guardate, su questa questione, io vorrei fare solo un inciso, non so voi, ma perché le varie, diciamo, anche un po' della dignità di sboccio. E io ho partecipato al passato molto, e in tutti i lavori delle condizioni ci ho messo tassione e l'invento, perché chiedevano i progetti di sicurezza. Chiedevano i progetti che andavano a contrarre le condizioni, che sono i conti della difficoltà, del traslavorso delle condizioni medie, che hanno detto in questo sito, con questo, 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 io ho già bisogno di diresti con questo. che esisteva con quattordici tempi di ormai, a fronte di quei cinque alti o sette che voleva in precedenza di una vita. Perché lui si diceva che Cristo serviva per garantire la tentativa, il tempo, garantire la tentativa. No, perché? Perché io sono sempre molto attento quando si fregono i miei consiglieri e quando si fregono le sue insoluzioni. Allora, il principio qui è che il lavoro posto oppra un serbio che venga a tutti i miei consiglieri, consiglieri, è una ricorda, è stata benedita, che lei è stata una campionata con tutti i miei consiglieri. Allora, visto che voi stessi non se ne bocatevi, vi tenete un minimo di dignità in questo stato, nonostante il fatto che io vi è rispettoso di chi interviene, come io sono di chi interviene per me. Non c'è una macchina, non c'era una campionata. Non c'era una campionata, non c'era una campionata. Non c'era una campionata! E' compras Mysolo 7. del vento a me. Allora, la domicilio, la questione del Presidente della Commissione, lo vede, sospettare questo, perché qua è stata una distrazione della discusione non sul merito, perché la discusione sul merito, la parte del sindaco educata che ha discluso sulla dignità, su chi fosse sottotitura sui giornali, non anche sul merito e la robosta di San Luis, l'unico che invece è entrato il merito, la proposta, il sindaco, Castola. Allora, perché il Partito Democratico, quel pensamento che chiede di promettere a proposte, quindi a legale definitivo, capo o segretario, lei, insomma, giustamente, come abbiamo risponde su un privatizzato, già da sera, per questo motivo, che è già potuto anche fare un paese su questa vicenda. In ogni caso, è il mondo che il Consigliere lo può diventare, ma al nome della Commissione non è evidentemente così, perché la Commissione, se nemmeno ci sta, se nemmeno ci sta, se nemmeno ci sta, se nemmeno anche l'opposizione, ovviamente, a tutto non dovete apprezzarlo questo motivo, che resta non l'evitamento del reggio d'antoranza, bene, vai il Consigliere, basta la personalizzare questa, questa sua definizione dell'evitamento del Catodismo. è assolutamente o diventamento che il Catodismo è così che ha il nostro Natale. Ah, perfetto. E allora, ma la sua ragione è che gli altri consigliere ritengono di dover, come dire, conservare il diventamento. Lei, però, nel contenuto, dovrebbe fare questo, risate se le nazioni che ne hanno usato. Lei fa alcune eccezioni pubblici, eccezioni concrete, sulle quali sono le azioni che hanno usato, come dire, la posizione del Catodismo. Sulla questione, perché dice che abbiamo messo, in un'esempio di dare, se ho capito bene, una somma specifica alla questione del Catodismo. Basta direttamente di distinguere il Fondo di Transzazioni, perché le transzazioni devono occuparci in particolare, e in quelle transzazioni dovremmo farci rientrare anche i lavoratori socialmente. Se capisco bene questo, evidente che la sua proposta, diciamo, possa essere anche integrata rispetto a questo. Perché il Fondo che l'ha destinato ai lavoratori socialmente tutti, dovrebbe essere destinato a quello delle transzazioni e in quello il Fondo, da tanto in periodo del Consiglio e del Dependamento che specificerà la volontà che il Consiglio ha di destinare quelle cose affinché risolvano la questione della questione. Poi lei parla di un obbligo dell'Ordica, che ha riporto il processo della volontà. Che addirittura che dice, sto seguendo da un anno e penso che ho capito bene. E quindi non è possibile, non è utile, non è necessitato. Stabbiate voi. La domanda che viene al Consigliere del Partito dell'Ordica. In questo anno e mezzo è stata fatta la formata dell'Ordica o è stato chi si attende e chiesto all'Ordica che ha detto ai propri obbligati a qui e di soli il problema dell'Ordica. Se non è necessario mettere il fondo perché il comune al nostro caso non c'è nulla, ed è su questa domanda che ci attenderemo poi una specifica risposta. E poi sulla posizione della modifica sulla viabilità. E' chiaro e evidente, come dice lei, anche il Presidente, che è l'unico che, negli eventi che ci hanno deciso, ha raccontato le soluzioni. E se no, parliamo di un emendamento, come fosse una cosa buttata lì. Ci sono delle questioni contente sulle quali, però, caro Sindaco, qual è stata l'artico inspiratrice della Commissione e del suo Presidente, che oggi, evidentemente, offriso giustamente dalle parole di Stato, ritira la sua volontà di continuare a risolvere il governo dell'Ordica. Ma il punto è che, si dice, la modifica ha deciso di tornare dei fondi a delle attività considerate non prioritarie, per destinare le attività considerate prioritarie. Dalle quali, come lei diceva, c'era la di Stato, la Qomori, con una pittura della Modena, dopo è modifica sulla piantea e dopo, mediante una dilla, così direi che non si direi che non si direi che non si direi, non si direi che non si direi che non si No, 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 no. immaginate che, nel binario, al di che che entri la vostra Stata, con noi preparate il tuo consenso, perché a me non dico una cosa stagliata. Deve eliminare il Consenso e serviti al destinare rispetto ad aspettare una somma maggiore, inerendo da quella una priorità della nostra città. Al di là, poi, dell'indicare o meno di un'attività, che può essere questo oggetto di un suggerimento, che è la Commissione o il gruppo consigliare o il Consiglio Comunale, in unità, perché chiaro che il Consiglio è così, in quelle strade, sopabilmente, ci camminano, ci vivono, ascoltano l'edigenza di quei cittadini che l'aventano lo Stato, che è grato nelle forze. E quindi, non c'è pensato questo reato di detta maestà, l'avete immaginato che la Commissione ha indicato il destinato. C'è la posizione una tecnica, perché, sicuramente, bisogna poi capire che che abbia lì e che si destina benvenire il Consiglio Comunale.